Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Essere Liberi. Spero che dopo la spedirete a tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Essere Liberi perché noi saremo liberi. Avremo il concetto di libertà quando avremo considerato la giustizia che va di pari passo alla libertà e avremo così avuto fede in ciò che abbiamo realizzato. Saremo liberi veramente quando avremo ottenuto la pace, quando avremo così ricavato dalla libertà il suo puro splendore, cioè essere liberi ma con giustizia, essere liberi rispettando il prossimo, essere liberi nella maniera più pulita e più perfetta. Saremo liberi quando avremo la coscienza a posto, cioè ci sentiremo realizzati nel mondo quando avremo fatto le cose nella maniera perfetta, senza dare fastidio agli altri. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Essere Liberi. Saremo liberi veramente quando avremo considerato la giustizia e le sue opere e con fede realizzato. Saremo liberi veramente quando la pace avremo offerto come simbolo eloquente di speranza al mondo disperso. Saremo liberi quando avremo la coscienza a posto, ci sentiremo realizzati nel mondo quando la libertà farà il suo corso. Essere liberi è una scelta portata avanti con verità. Essere liberi è una serena esplosione di vitalità. Grazie e spero la spedilità a tutti su Whatsapp. Arrivederci.